Grazie a tutti Nuovo Audio ok adesso Non è che l'audio prima non era ok È proprio che non c'era Bella Ciao Farenz Ciao Ale Ma questi qua sono cose delle 5 e mezza 5 e 17 5 e 31 C'è l'orario Buggato Switch pro pro proibito Adesso ne parliamo 5 minuti Dato dai raccontatemi come va Come la va Come la va a voi Mi sembra bello Bello a scatti come al solito Perfetto Perfetto Laghi come la madonna Bene Come mai Cazzo c'è di diverso dal solito Ti vedo la gara bestia Ciao Ecco Ma che sto vedendo la switch pro Mi sono perso qualche news di oggi Ditemi se Se sentite Se è una cosa Tremenda da Frame saltati Porca puttana Come se non ci stesse dietro Scatticchia Si sente bene Effettivamente lagga molto il video Aspettiamo un attimo Perché secondo me Tra poco riprende Non che abbia fatto nulla di particolare Però Qua usciamo Va meglio Adesso va fluido Prima Sembrava un ppt Non so cos'è un ppt Un powerpoint Grazie a in lipso Video così così Minchia se lagga Anche a me sembra di vederlo un po' peggio Ora un po' meglio Dai ragazzi Va bene così Secondo me Adesso comunque va Va decisamente meglio Rispetto a prima E' proprio ora di cambiare Mac Già fatto Cioè Già acquistato Prima andavi a 30 fps Era 120 con la PS5 Ora si è stabilizzato Benissimo Ora tutto ok Grazie ragazzi Grazie per questi Per questi feedback In In tempo reale Non lagga più Benissimo Allora E' arrivato Ma eh ciao Il Mac nuovo c'hai voglia Grazie Casus Ma Casus Tu ti Tu ti iscrivi una volta ogni tre giorni Perché continuo a vedere le tue cose Le tue Grazie comunque E grazie anche a Refild Stamattina mi sveglio E dico Devo trovarmi Un nickname Su Twitch Refild A mo Frame saltati La risoluzione è un po' a me Ma il resto va bene La risoluzione è sempre quella Che Mac mi son preso Il Macbook Pro M1 16 giga Figa Spero che vada bene No questo qua davvero Non ce la fa più a starci dietro No l'iMac non l'avrei mai preso Buonasera dottore Ti è arrivato l'M1 No ragazzi No ragazzi Mi arriverà tra il 15 e il 22 Gennaio Firenze Sta streamando da 4 minuti 4 secondi Ma Ma ste cose Io ho cacciato Allora Un po' di novità a livello di canale Ho cazzato dentro un po' di Bot Cioè di messaggi dei bot Tipo questo qua Che dice da quanto tempo è cominciata la live E va bene Poi questo qua che dice Il mio referral di Amazon Va bene E' come se vedessi una patina di sperma sulla camera Benissimo Iscrivetevi al canale Quindi Va bene dai Va bene Boh Ma ancora nastro adesivo sugli occhiali E io vi faccio rivedere Che non si tratta di nastro adesivo Vabbè che non si Non zoom un cazzo però Grazie a Sambu Grazie per la sottoscrizione Boh Come va con Galaxy Ah Ciao Marco Sta andando avanti molto bene Perché vabbè Lo sto Lo sto ancora apprezzando Come prima Più di prima Tamerò E' veramente un ottimo gioco Secondo me Invecchiato Bene Nonostante i difetti Che evidentemente Già colpiva Il difetto Il difetto è la telecamera Appunto Già colpiva Il Grazie Rick Già colpiva Il gioco Nella sua versione originale Oggi Oggi Questo difetto Probabilmente accentuato Proprio All'età Dall'età Ma tutto sommato Il gioco è talmente bello Che si va avanti Via Riscatto Riscatto Evidenza Il mio messaggio Utilizzo Secondario Iphone Vabbè Grazie a Carizar Che scrive Ciao bellissimo Grazie per avermi reso Questo 4 mei Ci sembra più leggero In questo periodo Dal manga Grazie davvero Cos'è così Stronzo Continua così Anche te Grazie mille Ah E poi Cos'è che ho messo dentro Anche Ah Ho messo dentro I punti canale Visto che mi avete Grazie a Taueli11881 Che mi avete detto Cazzo C'ho già tanti Tanti punti canale Non so come sfruttarli Ho messo dentro Qualche stronzata Dai Giulio Hai preso il covid Bel colpo Dai Dai che passa anche a te Buonasera Sono Guru Cremonel Bene Visto che stavamo parlando Di Mario Galaxy Su Switch A questo punto Direi di partire Direi con l'argomento Clu di questa sera L'argomento Clu di questa sera Non deriva Da notizie Ufficiali Ma secondo me Ufficiose Abbiamo iniziato Proprio stamattina Se non ricordo male Al massimo ieri mattina Durante Una live Vampiresca Avevi detto Di ricordarti Qualcosa riguardo Un utilizzo secondario Dell'iPhone Non ne ho la più pallida Grazie comunque Ciao Marco Galaxy è stupendo Io ho finito crash Ecco Non ti parlerò mai più Dicevo Abbiamo cominciato A parlare Di questo Di Switch Pro Durante una live Vampiresca Non mi ricordo Se stamattina O ieri mattina Poco importa Perché No stamattina Perché praticamente Ieri sera Mentre pastrucchiavo Il televisore Nella schermata Di menu Del Bravia Mi saltano fuori Delle proposte Di visualizzazione Di video su YouTube Su Twitch Tra le quali Mi spuntò Il faccione Di Pierpaolo Greco Con Un video Su YouTube In cui Suggeriva In cui si parlava Di un possibile Switch Pro Io Ripeto Non ho Sicuramente Lo stesso livello Di informazioni Di un giornalista Come può essere Greco Come può essere Qualsiasi altro Giornalista In ambito Videoludico Però Nel momento In cui ne parla Un giornalista Mi venne il dubbio Che qualcosa In più Rispetto a me Sappia Ciao Farenzo Sei cattivo Bene Inoltre E da ciò È nato L'argomento Di questa live L'acqua Arrivo Inoltre Oggi Tra i miei vari Feed Su Telegram Mi becco Una notizia Che dice Un'offertona Dal GameStop L'offertona In cosa consiste Compra oggi Lo Switch Lite Ok E se lo compri Oggi Ti assicuriamo Una Valutazione Di 150 euro Se lo dai dentro Entro il 29 aprile 2021 Mi sembra E allora ho detto Scusami Ma da quando in qua Io compro una console Oggi Con una promozione Sulla valutazione Per darla dentro Entro 4 mesi Ma che senso ha Sta cosa Non è che per caso Anche GameStop Che sicuramente Sa molto più di me E forse anche più di Multiplayer Punto it Sa già qual è La prossima Come dire Il prossimo planning Delle uscite di Nintendo E c'è Questa benedetta Nuova versione Di Switch Questo Chiamiamolo Switch Pro Che È In canna E quindi appunto GameStop Sapendolo già Organizza questa specie Di Questa Non specie Questa promozione Già in previsione Del darlo dentro Per passare Alla versione successiva Alla versione migliorata Chiamatela come vuoi Oddio La cosa è un po' strana Perché Se io so O annuso il fatto Che tra 4-5 mesi Esce lo Switch Pro Cazzo faccio Compro il Lite adesso Non avrebbe senso Però Potrebbe essere Comunque Un altro Indizio Sul fatto che Sta benedetta Nuova versione Di Switch Sia davvero Qualcosa di reale Voi come la vedete? Solid Simo Grazie mille Ciao Farenza Breve diventerò Papà anch'io Boh Come hai fatto a conciliare Videogames e Prole? Bene Mi riporrei questa domanda Tra due anni Sapendo che valutano Lo Switch Lite 150 euro Possiamo eventualmente Già tirare fuori Eventuali cifre Sulla nuova versione Io Allora A me Sapete cos'è la cosa Che puzza più di tanto? Cioè Diamo per scontato Che davvero Si è in canna Questa Questa nuova versione Di Switch Non capisco Come mai Abbiano dato Come data Il 29 di aprile Perché è veramente Dopodomani Il link Della promozione Sarà qualcosa In negozio Comunque Quella trovate Tra le notizie Di Every Eye Mi sembra Allora Fabio Battezza Un 350 euro Potrebbe essere Allora Sinceramente Se dovesse uscire Davvero Anzi Tutta questa live La Imposterò Senza dire Se dovesse uscire Diamo per scontato Che esca Quando uscirà Dovrà uscire Secondo me Ad un prezzo Quanto meno Uguale Se non Leggermente Superiore Al costo iniziale Dallo Switch Originale Quindi Da 329 in su Il vostro 349 Potrebbe essere Piuttosto Veritiero Tuttavia Per forza Non è vero Non per forza Di cose Non deve calare Il prezzo di listino Che ricordiamo Ancora 329 Dallo Switch Perché comunque Una versione più economica C'è già Che è la Lite Quindi È possibile Che Contemporaneamente Sul mercato Esistano tre versioni Di Switch Vendute appunto A Tre prezzi diversi Che uno può Selezionare In base Alle proprie tasche In base Alle proprie Esigenze Quello che stavo dicendo Prima però È che mi sembra strano Innanzitutto Che La La console Esca nella prima metà Dell'anno E da qui mi dico Perché Me lo fanno valutare 150 euro Entro il 29 di aprile Cioè Avrebbe senso Nel caso in cui Annunciassero Lo Switch Pro Già con una data D'uscita Anche nella seconda Metà dell'anno E GameStop Ti dice Guarda che Se tu me la riporti Entro aprile Prenotando quella nuova Io te la valuto così A parte il fatto che Comunque Credo Correggetemi se sbaglio Non è una promozione Grazie a Inlipso Non è una promozione Ciao Farenz Qualche mese fa Ho finito di traslocare Con la mia moglie Nella nostra nuova casa È stato un incubo Quindi visto che Tra poco ho toccato E buona fortuna Grazie mille Non è detto Comunque Che La valutazione Di 150 euro Sia finalizzata Alla Alla Prenotazione Della 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 nuova versione Di Switch Cioè uno la può anche Comprare oggi E darla dentro Entro il 29 di aprile Per prenotare Qualsiasi altra cosa Potrebbe anche essere Per prenotare Una PS5 Per dire Però Lasciando perdere Questi se Questi ma C'è qualcosa Che mi puzza In questi In queste In queste In questi annunci La cosa che più mi puzza E ripeto Dopo scontato Che esca davvero Questo Switch Pro È che me lo fa uscire Ma con che cosa Perché non sono previsti I giochi per adesso Giochi Diciamo Di un'importanza tale Da accompagnare Il lancio Di una nuova console Nintendo Di una nuova versione Per esempio Quando uscì Il mio 3DS Se vi ricordate Uscì questo gioco Rivisitazione Già visto In altre salse Eccetera Però Qualcosa Di importante Uscì Qua Per carità Magari Grazie a Bethesda Con questo Sono 4 Benissimo Allora È attivato Il bot Però No Il bot Era già attivo Da un bel po' Sto aggiungendo Roba Pian piano Non ho visto Il gioco La madonna Figa Marco Xenoblade Chronicles Per il New 3DS Ok Quindi Anche Monster Hunter Cos'era 4 United Non mi ricordo più Era uscito insieme Al New 3DS Quindi Antboard Dice Magari entro il 29 aprile Aprono i preorder Per la console Che uscirà Verso la fine del 2021 Può essere Però Capisci che le tempistiche Non mi tornano Perché La promozione È uscita oggi No Ok Quindi Compro la console oggi La devo dar dentro Entro il 29 aprile Per prenotare La console nuova Quindi Ok Che magari Non sarò obbligato A doverla dar dentro Cioè io La compro oggi Mi annunciano lo Switch Pro Lo vado a prenotare Ti dico Guarda che Quando verrò a ritirarlo Darò dentro Il mio Switch Lite Quindi Fermami La valutazione A 150 euro Può starci Non lo so La cosa era Che Xenoblade Era esclusivo Dal New 3DS Con la Switch Pro Sarà uguale Con il resto dei giochi E qua ci volevo arrivare Perché Oltre Tra l'altro Ragazzi Non ho visto Qualcuno di voi Appunto Ipotizzava 349 euro No Ma secondo Cioè Per tutti Sarà quella cifra lì Non di più Non di meno Di meno Secondo me È improbabile Silvio Benvenuto Grazie Silvio Tra l'altro Tu mi hai mandato Una mail Un po' di tempo fa Devo ancora risponderti Perdonami però Figa Nel momento in cui Mi scrivi Un capitolo Del De Camerone Faccio anche Un attimo fatica Oh Si è anche iscritto Un roito 349 Per te È troppo Per me Per me No Allora Massimo 400 euro Il 400 euro È una cifra Molto particolare Perché Perché a 400 euro C'è la playstation 5 La playstation 5 Senza Senza lettore Ora Nel momento in cui Lo switch pro Esce a 400 euro Si mette Automaticamente In concorrenza Con PS5 Con il prezzo Di ps5 Il fatto è che Per potersi mettere in concorrenza Dal punto di vista del prezzo Deve anche mettersi in concorrenza Dal punto di vista delle prestazioni Secondo me Ed è difficile Che Uno switch pro Possa Concorrere Con Con ps5 O meglio Mi aspetterei Una Un rientro A cazzo dura Di nintendo Nel Nel Mercato videoludico Con Una macchina In grado di competere Con ps5 Series X Ma si tratterebbe Di una nuova generazione Totalmente Di nintendo Non con una versione migliorata Di una console che esiste già Però Vorrei capire anche Tra di voi Cosa 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 ne pensate Horus Horus Ho fatto una bella domanda Però Me la sono persa Mannaggia La madonna È possibile Fare girare Giochi in 4k Con le cartucce Domando seria Perché Non lo so Perché Ma c'è pure Xbox Series S Che ha 300 euro Sì Però La Series S Secondo me È Una console Grazie Gianmarco Un bacio È una console Talmente Particolare È una versione Particolare Di una console Perché È una cazzo Di player Per il Game Pass Quindi uno Uno che vuole comprare La Series S Che c'è in testa Di prendere la Series S È perché vuole utilizzare Il Game Pass Di Nintendo Non ne frega un cazzo Comunque Avrebbe comprato Nintendo A prescindere Cioè La Series S Secondo me Si mette poco In contrasto Con il resto Del mercato Chiedeva Se Switch Pro Secondo te Sarà ibrida O solo fissa Ottima domanda Ottima domanda Abbiamo visto Uno Switch Che non è più Switch Che non switcha più Non mi stupirei Se uno Switch Pro Fosse solamente fisso In realtà Di roba ce n'è Da presentare Assieme alla nuova Switch Breath of the Wild 2 Da pre... No No Sandroos Un conto Da presentare Assieme alla nuova Switch Un conto è presentare Un conto è far uscire Breath of the Wild 2 Non può uscire A aprile-marzo Bayonetta 3 Non si è visto nulla Metroid Non si è visto nulla Stanno ancora cambiando Il capo Dal team Eccetera Megami Tensei Non è un gioco seguito Ma soprattutto in Giappone In Europa In America Già meno Cioè Secondo me Molto dipenderà Proprio dal tipo di console Cioè Nel caso in cui Si trattasse Di Una rivisitazione Un po' più potente Di Switch Allora potrebbe anche bastare Grazie a Marco Il Coyote Uno si può Aspettare anche Dalle rivisitazioni Dalle rimastre Esattamente come Xenoblade 3D Quando è uscito Il 3DS Il new 3DS Ma nel momento in cui Mi vogliono pompare Una Switch Uno Switch Una versione nuova Dello Switch Chiamiamolo Switch Pro Magari anche solo fisso Extra potente Tutto Devi Giustificarmi L'utilizzo Della potenza In più Grazie a Necronius Anche Per 4 mesi consecutivi Avete capito Come figa faccio A far partire Un sondaggio Che ho 20.000 punti Ah questo Non lo devi chiedere a me Io ho dato la possibilità Di aprirlo Caro mio Sto andando A una visita medica Importante Portami un po' di fortuna Ma vai tranquillo Uomo toporagno Una versione Only digital Dello Switch Dello Switch Secondo te Sarebbe possibile No Nintendo Cioè tra tutte Nintendo La vedo ancora Troppo legata Al formato fisico Giulio Mania Ha rischiettato Sondaggio Moderatori A 10.000 punti Ok Potrebbe essere Secondo te Che la Nintendo Faccia uscire Una nuova console Fissa Da Next Gen Che non fa parte Della linea Switch E la Switch classica Diventa la console portatile È possibile Lo storto 17 Però capisci anche tu Che A sto punto Stiamo parlando Di una nuova generazione Di console Nintendo Non di una versione Nuova di Switch Cioè se non switcha Se fa Uscire giochi Esclusivi E tutto Orzo Bonzo Finanziamo il Mac Per fare Oh finalmente Uno che lo capisce Grazie Ho ricevuto Ho ricevuto Un emoticon Grazie all'abbonamento Di Orzo Bonzo E io ti ringrazio Ho schiacciato Anche su grazie Aggiungi un messaggio Per ringraziare Orzo Bombo Grazie per Pezzo Di Cacca No Secondo me Per Nintendo Non ha senso Competere con Sony E Microsoft Comunque Io avevo sentito Anche di un possibile Game Pass Su Switch Sarebbe interessante Come cosa La vedo Veramente poco credibile Però vedevo poco credibile Anche uno Switch Pro Quindi Sono Sono ben Ben contento Di sbagliarmi Ogni tanto Quasi 4 anni Sono un po' pochino Però per una generazione Nintendo Esatto Anche qua Sarei voluto arrivare Posto che comunque sia Fai uscire Cioè Secondo me Nintendo Non può ciccare Il fatto Di Far uscire Una nuova generazione Di console Grazie a New Joe Bella Fares Mamma quanto sei bello Eh ragazzi lo so Quello è il fatto Non può ciccare Di La comunicazione Di questa nuova Di questo nuovo hardware Perché Se me lo Chiami Cazzo ne so Nintendo Vincenzo Vuol dire che ha ucciso lo Switch E lo Switch non ha ragione di morire Perché sta vendendo ancora una cifra Senza far uscire giochi E quella ha la potenza di Nintendo Quindi Non ha Non ha Secondo me Non si chiamerà Con un nome diverso Né con Switch 2 Tempo fa si parlava di un upgrade Legato principalmente alla dock Non tanto alla console Può essere Siamo sicuri che in questo momento storico A Nintendo Come anche a presentare un modello pro Non converebbe aspettare due o tre anni In modo che Nintendo Possa fare un vero salto generazionale Con una nuova console ibrida Io sono della tua idea Non facendo Non presentando un modello pro Tra due o tre anni Ma proprio cambiando la generazione Soprattutto perché Non ha giochi in canna Soprattutto perché Switch continua a vendere tanto Sono un cretino Perché ho speso i punti Per richiedere un sondaggio I moderatori Ma sono un moderatori Quindi in teoria Potrei già fare il sondaggio Esatto Non so però dove Però Ho la richiesta sondaggio Ma non so dove farla Vabbè Era un sondaggio Sul prezzo di Switch Pro Eh però dai Figa Giulio Ingegnati Caga fuori sto sondaggio qua No A meno che Questa cosa qua Indichi un suggerimento Da parte mia Cioè Tu mi suggerisci Di fare un sondaggio Non lo so Voi che seguite di più Gli streamer Datemi un aiuto Su questi punti canale Su queste riscossioni Come si fa a supportare Il peso e lo stress Per essere un sex symbol Ma guarda Inizialmente me lo chiedevo anch'io Però dopo un po' Ci ho fatto l'abitudine Ragazzi sono 13 anni Che sono Sono In rete E quindi Dopo un po' Uno ci fa anche l'abitudine Alle Appunto alle donne Che per strada Ti saltano addosso E tu le devi prendere Proprio Scostarle Per dire Ragazze basta C'è una roba da spuntare Con scritto Completa richiesta Ci provo Bravo Sono due cose Da tenere conto Uno Se esce una versione casalinga La Switch perderebbe La sua peculiarità Non sono d'accordo Due Nintendo non può creare Una nuova console E chiamarla Switch 2 Perché farebbe casino Come col New 3DS Ma più che col New 3DS Farebbe casino Non è vero Cioè Lo Switch 2 È il successore Dello Switch Punto Il Wii U Non è il successore Del Wii Non è chiara Questa cosa Non sono d'accordo Col tuo punto 1 Ric Perché dici Se esce una versione casalinga La Switch perderebbe La sua peculiarità E lo Switch Lite Anch'io dicevo Eh ma che senso ha Però avendo un fottio Anche quello Quindi Da quando mi hai fatto Il ride Non do Non so più come Togliermele di dosso Ciao grande Più che donne Ti arrivano dosso Solo dalle salsicce E quindi Sessista Vanno bene anche le salsicce A quanto tagliano Switch Base E Lite Non necessariamente Secondo me Le devono tagliare Anche perché Ragazzi Adesso I prezzi di listino Sono rimasti quelli Da day one Però Cioè ma quante volte Avete già visto in offerta Lo Switch Lite O quante volte È possibile Usufruire di Quegli sconti Che azzerano l'IVA Quindi ti fanno fare Aspetta eh Tac Calcolatrice Tac Se prendiamo 329 euro di listino Per 22% Sono 72 euro Di sconto Quindi 300 Eh vai a pagare 250 euro Lo Switch Praticamente Originale Quindi Eh Direi che Prima della quarantena Lo Switch Costava 250 euro Eh Magari in qualche offerta Come questa qua Che ho appena Penarello Time No Calcolatrice Time Che ho appena Eh Ipotizzato No Ciao sgattomatto Per il commento di prima Se la Pro Fosse fissa Col cavolo che ti confondi Va là che te ne accorgi Non stai prendendo la vera Switch Stessa cosa tra Switch e Lite Non mi pare che la gente si confonda Non lo so Vuoi che nessuno Eh Vuoi che nessuno Abbia comprato uno Switch Lite Convinto che fosse lo Switch Eh Vero e proprio Quindi ibrido Non noi che ce ne intendiamo Ma qualche genitore Qualche Chi usa Switch in Doct E chi la usa solo in portatile Cosa ne pensi dall'autorialità dei videogiochi Direzione artistica di un Assassin's Creed Scusami ma che cazzo c'entra Siamo nel bel mezzo di un discorso Eh Su Sullo Switch Da resti dentro il tuo Switch Per una versione solo fissa Questa Riccardo È una domanda A cui Credo Penserò tutta la notte Se tu fossi figo Domani mattina Ti svegli alle 5 Perché ti darò questa risposta È partito il sondaggio Dove? Ma dove? Eccolo Pronostico Con punti canale Pronostica 470 Come cazzo funziona sta cosa? Pronostica Sono arrivati i punti canale Guarda Angolo di Farenz Inizia subito Va bene Lo guardo tantissimo Costo Switch Pro Tempo rimasto Scusate però Evidenzia il mio messaggio Ma io non sto capendo in cazzo Sinceramente Pronostica con punti canale Pronostica con punti canale 1480 Versus 13000 Ma cosa vuol dire? Ha attivato le scommesse Invece del sondaggio Non è proprio Mi sa che Giulio È fatto È fatto casino È diventato l'angolo Delle scommesse Pronostica Sblocca 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 un emoticon Boh Mi sa che ho svuotato il mio conto Figa Fabio E Giulio È fatto un casino Questo non è un sondaggio Perché c'è una risposta esatta E una sbagliata Mi sa Bel colpo Adesso arriva la finanza No Il Sysal Point di Farenz Pronostica è una funzione Per scommettere punti canale Praticamente chi vince O tiene i punti canale Di chi ha perso Oddio Giulio Mette cupi Switch Pro Può fare abbassare il prezzo Di PS5 Ma stai scherzando? Dopo aver votato La finanza sotto casa Se è il conto in rosso Tutto bene Che stupadene Sbaglio il risultato Di un pronostico su Twitch Deve essere dato Entro la live Farenz Betici Mamma mia Secondo me Almeno un cinquantello Lo tagliano Dallo Switch base Scusè Cosa costa di listino Il Il light Dunque Se quello è 329 Lo Switch Lite Cos'è Dicemelo voi Perché non me lo ricordo Sinceramente Secondo me Stratificano In light mobile Uguale bimbi Switch ibrido Uguale casual Nerd pop 209 209 209 209 209 209 Più 99 Che è il costo Del dock Eh siamo a 308 Arriviamo circa A 320 Eh mancano quei 20 euro Per arrivare Al prezzo Dallo Switch Più o meno 219 Non di meno È finita la scommessa Sì è ben visto Domanda seria Da ignorante Non voglio finire Su caro fretta Ti scrivo Ma la Switch Lite Si può in qualche modo Collegare alla tv? No Punto Eh Troppo per me Massimo 349 Male però Che il bot Per leggere Live il messaggio Vada solo con i bits E non anche con i punti canale Eh Questo Non te lo so Non credo ci siano altre versioni Sinceramente No Non mi peso tutti i giorni Tranquillo Sì ma nel Lite Non hai neanche i pad separati Eh Lo so Cioè Ah sì infatti Certo 319 fino a 379 Ti seguo da quando facevi l'idraulico Vada Sì ma nel Lite Non hai neanche i pad separati Certo Cioè Se partiamo dai 329 euro Dallo Switch originale Il 300 Il 209 Dallo Switch Lite Ha senso Dipende Cioè ragazzi Tutto dipende Da capire Adesso possiamo anche fare Dalle ipotesi su questo Magari Senza scommesse Cosa Cosa potreste aspettarvi Dalla Cioè Da quali componenti Può essere formato Lo Switch Pro Cioè È solo una versione portatile È È una versione ibrida È una versione solo fissa È una versione con i Joy-Con Insomma Ha un bel ritorno Dalla portatile Sony Sicuramente Se Switch Pro Fosse solo fisso Lo Switch che è adesso Lo daresti dentro Eh me l'avete chiesto prima Ci dovrei pensare Ora come ora Direi di no Perché seppur Io utilizzi Lo Switch Al 90% Dal tempo In versione TV La possibilità Di avere Anche Il La portatilità È È una cosa Che non vorrei perdere Che più senso Dovrebbe fare una versione standard E una Pro a 30 euro di differenza Per me almeno 400 Scusate ma Questa domanda Va a ripescare Dalla Dalla vostra memoria Io mi ricordo Che quando è uscita La PS4 Pro Costava di listino Non mi ricordo Se 409 O 419 Ma La Di listino Sempre La PS4 Precedente La fatta Quanto costava Qual era lo scarto Per me prendere La portabilità Per me perdere La portabilità Seppur usare Sarebbe un brutto malus Anche per me Non me ne intendo Molto di specificità Tra Pane Secondo me Switch Normale Viene tagliato Completamente Mantengono il light Dipende Ok che la fatta Non c'era più Che poi Per un periodo È continuata Ad esistere Io chiedevo La differenza Di Ecco 100 euro Di differenza Ammettiamo che sia 400 Secondo te una Switch Pro Non sarebbe competere Con la PS4 PS5 Only digital Secondo me sì Secondo me tu sei entrato Troppo tardi In live Perché è quello che ho detto io 20 minuti fa Ti aspetteresti Miglioramenti hardware E quindi nelle prestazioni Miglioramenti nello schermo portatilo Oppure entrambi Sicuramente a livello hardware Per quanto riguarda lo schermo Non lo so Perché Purtroppo Temo che Un eventuale miglioramento Dallo schermo Andrebbe ad incidere In maniera Sostanziale Sul costo finale Dalla console Quindi È più probabile Che per mantenere Un Un costo Tutto sommato Contenuto Di uno switch pro E Mantengano lo stesso schermo Dallo switch Che tra l'altro Secondo me Non è neanche male Tutto sto casino Portatilo fissa Quando tutti noi sappiamo Che la portatilità Ci serve solo per il cesso Quindi Vabbè Non so perché Ma io sento Come riprovassero Una sottospecie di Wii U Schermo più grande Eccetera No Mia figlia Non ha cominciato A giocare con niente Anche sulla batteria E inciderebbe tanto No No Assolutamente O meglio Sì Lo schermo Cioè Dopo è scontato Che nel momento In cui mi migliori Uno schermo Più bello Più potente Più luminoso E tutto Mi devi migliorare Anche la batteria Uno switch pro Più potente Con Con le altre NG Che cazzo sono NG Io la uso solo in casa Ma se non fosse più ibrida Non so se l'acquisterei Alla meglio potrebbe portare Schermo 1080p Non di certo 4k Come si rumoreggiava A mo Ragazzi Ma vi rendete conto che Su uno schermo grosso Vi stavo facendo vedere l'iPhone Eccolo qua Su uno schermo grosso così Un 1080p Non vedreste la differenza Non ha senso Libri d'abilità Ricordiamo che portati Libiltà Per il 90% Dei casi Significa usarla sul cesso Vabbè Così piccolo Non ha senso Esatto Ma ad oggi La batteria di uno switch normale In portatilità Quanto lo dura Secondo me Attorno alle 3 2 ore e mezza 3 ore La PS4 costava all'uscita 399 La Pro 409 Per l'IVA Ma il costo era identico Nel resto del mondo No Non hai capito la mia domanda Non ho chiesto al lancio Ho detto Al lancio della Pro Quanto costava la FAT Lo si nota Invece Così come il refresh rate Ma va cagare Non ci credo nemmeno se lo vedo Non ci credo nemmeno se lo vedo Lo schermo a 1080p Ok Ma il 4K serve l'uscita sulla TV No Perché se stiamo parlando di Voglio lo schermo a 1080p Intendi lo schermo Della console Non la risoluzione Sul Sul televisore Ahia La versione 2019 La batteria dura anche di più Sì è vero Non ricordavo Questa Release successiva Scusa Farenz Tra PS5 digital E non Cambia Altro Oltre l'assenza Del lettore Caniel Questa domanda Mi è stata Fatta recentemente Via mail Non so se l'hai fatta tu Però ti ho già risposto Comunque non cambia assolutamente nulla C'è solo L'assenza Del lettore La PS4 Lancia costava 399 La Pro 4 Contemporaneo E' uscita la slip 299 Se fanno uno Switch Pro Di anno in anno Le batterie Sono più capienti Mantenendo le stesse dimensioni Tu cosa chiederesti Cosa vorresti Da uno Switch Pro Quali sono le novità Che ti porterebbero Ad acquistare La botta sicura Ma sai che Io Marze Ti confermo Ciò che dissi Ah beh ormai 4 mesi fa Novembre Ottobre 3 mesi fa Quando ho cominciato a fare le live Una delle prime live Che feci Probabilmente ancora sul tubo Fu riguardo proprio La possibilità di uno Switch Pro Oltre a dire che secondo me Era poco probabile Che fosse in canna Da Nintendo Ma detto ciò Io Non ne sentirei la necessità Perché obiettivamente Non saprei cosa chiedere Visto che Cioè Una maggior potenza Una maggior risoluzione Cioè Più di questo Su una console di questo tipo Non Cioè Non saprei proprio Cosa Cosa volere Senza contare poi che Mi troverai tra le mani Una console più potente Ma senza giochi Da Da giocare Perché sì O meglio Senza giochi nuovi Credo Nel modello La batteria dura di più Non perché la batteria Si migliora Allo stesso amperaggio Ma perché ci sono Nuove componenti hardware Che consumano meno Immaginavo Lo Switch Pro Per me dovrebbe puntare Anche ad avere Una dock Magari più funzionale Magari con la possibilità Di avere un boost Alla potenza Della console portatile Cosa vuol dire Un boost Alla potenza Della console portatile Partendo dal dock Ciao melomazza Sindaco di australia Grazie Spergerà la 2-3-4 Switch Pro Deve essere più potente Non so Se hai visto girare I rule warriors Ti sanguinano gli occhi No Celoma Non l'ho ancora avviato E grazie anche a Peppo Si è iscritto nuovamente Per 3 mesi E hai fatto bene Ciao a tutti Sindaco di australia Bella lì Direttamente dalla live Di Dario Bene Un dock potenziato Se nintanto Dovesse mai annunciare Qualcosa di nuovo Lo vedrei più Probabile una nuova Home console E non una Una portata Una switch dedicata Vedè che il Mac si avvicina Io ci sto giocando ora E si ha E si Ha grossi problemi Se c'è giochi da vedere Ce ne sono parecchi in sviluppo Da tempo Da Nintendo Amo Figa Marco Lo so Sto ipotizzando Un'uscita Nella prima metà Del 2021 In cui secondo me Non uscirà nessuno Di questi giochi Che sono stati Annunciati Mai visti Mai Mai visti Girare eccetera Non gira così male I Rule of Warriors Gira molto peggio Breath of the Wild In alcune ambientazioni Alla fine A pensare Alla fatto La switch mini Che solo portatile Una switch maxi Solo fissa Avrebbe senso Potrebbe essere A me basterebbero Dei joycon Che non si sminchiano Ogni due mesi Chissà che punto è Metroid Secondo me In alto mare Con quanti mesi D'anticipo Potrebbero annunciare Breath of the Wild 2 In che senso? Visto che è già stato annunciato Come? È sempre il phone È sempre il phone Tranquilli Non è il Mek Non è il Mek Aspetta Provo a fare così Dovreste sentirlo Un po' meno Ma è colpa vostra Che mi avete fatto alzare Di gran lunga Il gain Penso Intenda La data d'uscita Di Zelda 2 Ma dio Secondo me Un paio di mesi Prima Si sta decollando La parte Ma figa Ma voi a casa vostra Non avete dei cazzo Di phone Io non sono da solo Qua in casa Quindi Potete immaginare Che mia moglie Si lavi Alla brutta abitudine Uscirà prima Metroid oppure Splinter Cell Carofaro Breath of the Wild 2 Per Switch 2 Non sarebbe Una killer application Per te Nel momento in cui Dovessero far uscire Breath of the Wild 2 Esclusivo per Switch 2 O Switch Pro Si tagliano le gambe Da soli Do per scontato Che Breath of the Wild 2 Uscirà Anche sullo Switch Normal A casa mia Sono tutti pelati Niente phone Vabbè Ma che esclusivo Se attacco il phone Mi salta il contattore Io manco l'avevo sentito Il phone Ci pensa già Il mio pc A fare rumore Boh Come Breath of the Wild 2 Uscito su Wii U Eh Ho la stessa mutanda Da sette giorni Complimenti per la croccanza Ma si Altrimenti perderebbe Un botto di vendita Ma non solo Ma sapete che A Shitstorm si creerebbe Switch vende ancora Come il pane Che senso ha puntare Già ad un prossimo Ma si per forza Il massimo sarà ottimizzato Per la pro Ecco esatto Questo lo vedo più Più probabile Cioè si inventeranno Qualcosa di Qualche feature Qualche feature Esclusiva Per lo Switch Pro Oppure delle Migliorie grafiche Esclusive Dello Switch Pro Ecco Ma la mutanda rossa Per Capodanno Ce l'ho Comunque potrebbe uscire Solo Potrebbero uscire Solo degli aggiornamenti Che vanno a potenziare I giochi vecchi Come avvenne per PS4 Pro Prego Questi sono i risultati Che ho trovato Di cosa? PS5 Le domande frequenti? Vabbè Io ci spero Perché ho dovuto Abbandonare Xenoblade Per quanto il frame rate E grafica Facessero pena Ma tu vedi Switch Pro Come il New 3DS Oppure lo vedo Come un vero e proprio Switch 2 Inteso come nuova generazione No Allora Aspetto a rispondere A questa domanda Prima voglio vedere L'annuncio Perché Innanzitutto Dal nome capiremmo già Numerose cose Perché se lo chiamano Switch Pro Switch Advanced O robe così La Come si dice La La generazione Rimane questa Si tratta di una console Midgen Punto Se lo dovessero chiamare Switch 2 O con un nome Tutto Completamente diverso Allora ragazzi Abbiamo fatto i cambi Di generazione Ma francamente La vedo poco probabile Perché non può Lo Switch Morire dopo solo Quattro anni Con le vendite Che sta ancora Macinando Sono out of the loop C'è un annuncio Nintendo Imminente Non ufficiale Ma ci sono Tanti indizi Non provenienti Da Nintendo Oddio Se vogliamo Mettere Allora abbiamo detto Delle notizie Di multiplayer Della notizia Di Every Eye Che linka L'offerta Di GameStop Non dimentichiamoci Che Nintendo Alcuni giorni fa Ha detto Che siamo A metà generazione Di Switch Facciamo Uno più uno Più uno Gli indizi Riguardo L'effettiva realtà Di questa Nuova versione Di Switch Potrebbero essere Ormai Veritieri Lo schermo dal Pro Diventerà grande Come quello Di un tablet Eeeh Bomba Così il 1080 Va a più senso Certo Un tablet Confido in una versione Che Switch Max Avrebbe più senso Come nomenclatura Confermi No Metà vita Non vuol dire Non vuol dire Che non possa uscire Una versione Pro Infatti O scemo Ho detto proprio Esattamente la stessa cosa Siccome siamo a metà vita Detto da Nintendo E' più probabile Che esca una versione Pro Non possono essere Solo coincidenze Potreste averci visto giusto Ma una nuova Playstation Portable Certo Come no Comunque Breath of the Wild A parte qualche ombra Qualche ombra Era lo stesso E identico Gioco Tecnicamente Su Wii U e Switch Dice Il Bosco Korogu Va a 15fps Ma sapete che Io non me la ricordo Questa 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 parte Così laggosa Hai visto Un'emulazione Su PC Zelda come gira Arriva a 4k A 60fps No Non l'avevo visto Esistono già Ci sta Sia fissa Lo Switch è uscito nel 2017 L'Ener 2019 La Pro Ciao Farenz Finalmente ti vedo Qui sopra Su Twitch E' la prima volta che ti vedo in live Me ne devo andare pure Vabbè Ti voglio dire che sei un grande Mi hai sempre fatto vedere Devi essere un'altra volta cattivo Con i primi video Niente Ho riso lo stesso Ti sei troppo calmato Che due coglioni Queste cose Vabbè Ti vedo le storie su Instagram Per farti dei complimenti Grazie Prima di mandare in pensione Il 3DS Nintendo ci ha messo una vita Per mungere sempre più vendite Perché dovrebbe già ammazzare Switch Esattamente Grazie ad Anarchin Che mi fa un bel ride Di 21 persone Grazie mille A me gira benissimo su Light Il Bosco gira fatica Però è sopportabile Eh ma no Non me la ricordo Può essere È uscito recente Un patent Che confermava l'idea Poi vediamo se succede Una nuova console portatile Sony Vabbè Che ne pensi Di Genshin Non l'ho giocato Non mi interessa Io gioco Breath of the Wild Su Switch Lite Non mi pare Abbia tutti sti problemi Nei frame rate Già un miracolo Che giri su quella calcolatrice Ci sto giocando proprio adesso Qualche calo di FPS Lo noto Anche sul riscaldamento A volte Sì beh Il riscaldamento Sì però Cioè non è che Non al punto tale Di dover dire Lo devo mettere sul tavolo Perché mi sto bruciando Le mani È troppo lungo Però ti voglio bene Ciao buon anno Devi essere più cattivo Vaffanculo Mario Mario ha riscaldato Niente parolacce Per 15.000 punti Benissimo Ragazzi possiamo chiudere La live qua My Mortal Phoenix Rising Zelda della Ubisoft Giocato Non male Allora Come ho già detto E ridetto Non ho intenzione Di comprarlo Perché Avendo provato La demo su Stadia Non Non mi attirava Più di tanto Però è uno di quei Classici giochi Che Il buon Paolo Il pappe Mi obbliga a giocare Una volta Che lui l'ha terminato E l'ha terminato ieri Quindi Quando Nel 2027 Riusciremo a rivederci Alla prima occasione Me lo rifilerà Nella schiena Io farei Una switch Niente Non mi entra in testa Una switch Eh ma non l'ho letto Separata la switch base Switch provoceranno 20 euro di differenza Chi cavolo prende La switch base Sì in effetti Un po' troppo poco Come Dipende Dipende Perché Se La Versione pro Dovesse essere Solamente fissa Quindi Massima potenza A questa Versione Esclusivamente In modalità tv Uno potrebbe anche dire No vabbè A sto punto io prendo Quella vecchia Perché Mi interessa di più Avere la portabilità Quindi tiriamo un po' Le somme Vediamo Comunque per sicuro Che questo possibile Non è inizio Ricordi sicuramente Una console midgen Ma non c'è In canna Nessun annuncio Ufficiale di nintendo Questo voglio che sia chiaro Sono tutti degli indizi Che ho raccolto Nelle ultime Nell'ultima settimana Più o meno Nelle ultime dieci giorni Che mi fanno pensare Che effettivamente Qualcosa di Che qualcosa Stia bollendo in pentola Ecco Mi apparsa sta roba Sì sì Lo so Mario ha richiesto Di non dire parolacce Infatti Non ne sto dicendo Per In onore I suoi 15.000 punti Canale spesi Potrebbe starci Punteranno Sulla portabilità Con light E sulla potenza Con pro Io però Sto bene Con la versione Di mezzo Sì Anche perché Ragazzi C'è da dire anche una cosa Obiettivamente Visto Il covid Visto I problemi Che sta avendo nintendo Nello sviluppo Dei giochi Quanti sono Secondo voi I titoli Che da qui A fine generazione Giocheremo Sicuramente Perché saranno Quelle esclusive Da non perdere Io ipotizzo Che Non siano Più di 10 Quindi mi chiedo Ha senso Passare una versione Di switch Più potenziata Cioè potenziata Che quindi Mi mostri I giochi In una loro versione Ancora più pulita Ancora più bella Eccetera Quando i giochi Effettivamente Da qui alla fine Della generazione Saranno 10 Anche perché Io sono uno che Ok Compro la versione Più bella di switch Più potente di switch Ma non mi metto Sicuramente a rigiocare A zelda Farina Le GVPS Mania Cosa c'entra Ma cosa c'entra No No dai Se la pro non switch Per me è un bel problema Ringraziando il signore Siamo tutti diversi Io preferisco giocare Con animali antropomorfi Che mi regalano le foglie Ok Serve tantissimo L'idea di una console Solo portatile Un po' più debole Una ibrida E una solo fissima Più potente Accontento un po' tutti Ma Mister Lucky Si è abbonato per 4 mesi Grazie a Firenze Di esistere Se verrai mai A Bassano del Grappa Ti pago da bere Ma sai che quasi quasi Vengo apposta Una switch pro Aggiornerebbe l'hardware Dal punto di vista La potenza grafica Presumo Anche se non ne vedo La necessità E questo il fatto Non ne vedo La necessità In ottica di Quanti sono i giochi Da qui alla fine Della generazione Aspetta E non c'entra niente Con l'argomento di oggi Perfetto Ma secondo voi È possibile fare Una fatica tremenda Per prendersi Una serie sex Al day one E dopo neanche un mese Essere obbligati A portare in assistenza Perché continuano A crashare Con qualsiasi gioco Ragazzi Purtroppo Può capitare Si mi piace Il sushi Grazie a Salina Per la domanda E se uscisse Una nuova console fissa Che senso Dovrebbe far uscire Una switch pro Se si trova Comunque passi indietro Rispetto alle competitor Presumo Quali caratteristiche Dovrebbe avere Da giustificare L'acquisto Rispetto alla sua Versione standard Grazie Elect 4k Per mettermi In difficoltà Ho trovato L'estensione Dei sondaggi Dopo te la mando Firenze Ho dei soldi Da parte Su cosa investo Sull'angolo di Firenze Non credo proprio Che Nintendo Si voglia buttare Su una console fissa Quando il suo punto Di forza È proprio La portabilità E lo ha Cosa è successo? Grazie ad Antocata O Antocata 93 Che ha regalato Due iscrizioni Una Seard E una Loccorulez Grazie a tutti A tutti e tre Ma soprattutto Ad Antocata O Antocata O Antocata Intanto bisogna assoluto Di dare FPS Stabile No Ma no Ma no Ma no Dopo non devo dire Le parolacce Ha bisogno Assoluto Di dare FPS Stabile I suoi giochi Ma non è vero Ma non è vero Ragazzi ma state giocando I giochi della Nintendo Tu stai giocando I giochi della Nintendo Dai che si spaventa Maya pure Vieni qua Vieni qua Secondo te faranno Switch Pro Retrocompatibile Potrebbero non farlo così Per giocare I vecchi titoli Saresti costretto A prendere lo Switch Classico Questa è la più grande Stupidata Letta oggi Che forma potrebbe avere Uno Switch Pro fisso Eccole Giocare a Super Mario Odyssey Per provare I giochi di Nintendo Via Sì Oppure più che 4K Potrebbe puntare al 2K Con 60 frame stabili Boh Io comunque ragazzi Non No Io voglio fare questo Questa è una buona domanda Questo No La vera star Delle live Ma la Switch Pro All'HB Ma se facessero Un'altra revisione Come quella del 2019 Ma molto più potente Ok Se la facessero E la chiamassero Switch Pro Stella comunque Il pepia Siccome non La Switch Pro Uscirà verso la fine Del 2021 Allora ragazzi Secondo me Se dovesse uscire Anche me Anche me Anche secondo me Uscirà alla fine Dell'anno prossimo Magari con Zelda Adesso ragazzi Siamo anche In fase di chiusura Dunque mi ha fatto piacere Questa live Perché Innanzitutto è stato Un argomento Un po' Improvvisato Nel senso che Mi ha dato in là Questa somma Rapidino Live sul backlog Esatto Una di quelle Poi dovrei fare Anche una live Con alcune persone Che si sono candidate Guardate Non è attimo Il non dire parolacce Va bene Ci sta Sai che la mattina È più difficile Specialmente col ghiaccio Di questi giorni Ah giusto Giusto Domani Non credo di riuscire A fare la live Vediamo Comunque sia Ciao Giulia Grazie ancora Per il ready Stamattina Comunque sia Vi do già anche Appuntamento Domani sera Alle 8 Su youtube Per il video Che ho Programmato Ok Ma grazie Dave Carbonara Raccolta fondi Per sostituire Le asticelle Le più chiacchiello Le restine Contano come parolacce Credo di sì Farenza Domanda seria Ma non credete Che il pubblico Di nintendo Sia più baby teen Rispetto al pubblico Più adulto Di sony microsoft Ma no Ragazzi No 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 Ragazzi Con questa Scemata Vi saluto Vi ringrazio Come sempre Vi bacio Vi abbraccio Ci vediamo domani Ci vediamo Nei prossimi giorni Ci vediamo anche domani sera Ripeto su youtube Mi raccomando ragazzi Fate a modo Soprattutto domani sera Ok Arrivederci Ah no Facciamo il ride Aspetta Facciamo il ride A chi Guardiamo a chi Rideare oggi Guardiamo chi c'è Dei miei contatti Guardiamo Vabbè Questi non hanno bisogno Vabbè Facciamo subito A che robin Sbocci Ride Non ero mai fatto Ra Madonna Vedete perché Ho cambiato Ride Kenobi Sbocci Se io scrivo E ci metto Almeno 5 secondi Avvia il pronostico Ma che pronostico Devo avviare La Io non capisco comunque Sto contro la rovescia Con il numero di spettatori Sono pronti Cosa vuol dire Sono pronti Vi fa cliccare qualcosa Anche perché Io adesso posso fare il ride Ma qua stanno aumentando Comunque i cosi Stanno comunque aumentando Il numero degli spettatori Boh Vabbè Ciao ragazzi